Report del primo semestre di attività del progetto GESPORT, la Corporate Governance nelle organizzazioni sportive. Di cosa si tratta e soprattutto quali sono gli elementi salienti di questo report? Dunque, GESPORT sta per Corporate Governance nelle organizzazioni sportive, un approccio di genere. Si tratta di un progetto di ricerca internazionale interamente finanziato dall'Unione Europea che si propone di implementare la presenza femminile nei centri di potere dello sport. Quindi andremo a studiare quanto sono presenti le donne oggi nei consigli delle federazioni sportive internazionali e cosa possiamo fare per migliorare questa presenza. Vi partecipano cinque università, oltre all'Università di Teramo in rappresentanza dell'Italia, abbiamo l'Università di Saragossa della Spagna, l'Università di Migno del Portogallo, l'Università di Sacaraia della Turchia ed infine l'Università di Leicester del Regno Unito. Le donne nello sport fino a qualche decennio fa erano praticamente assenti, si può dire, soprattutto negli sport di squadra. Adesso entrano a far parte di questa realtà, anche poi da un punto di vista dirigenziale. Sì, in realtà dal punto di vista dirigenziale ancora troppo poco, perché come è stato detto in un autorevole reportage giornalistico, cosa che mi piace ripetere, le donne soprattutto in Italia vincono nello sport ma non contano. Nel senso che anche quando raggiungono delle posizioni apicali nelle loro carriere agonistiche, non riescono poi ad avere una strada diretta per accedere ai centri decisionali, al potere nello sport. E i primi dati che abbiamo raccolto, che sono il frutto del primo semestre di attività di questo progetto, lo dimostrano perché, ahimè, abbiamo delle presenze contenute di donne nelle federazioni sportive in tutti e cinque i paesi partecipanti. Quindi si lavorerà affinché questa situazione muti o comunque migliori? Sì, cerchiamo di capire nei paesi dove la presenza femminile è migliore, che cosa è accaduto e che cosa ha favorito quella presenza femminile più, diciamo, rilevante, per poi utilizzare quell'esperienza per dare consigli sul miglioramento delle politiche di genere all'Unione Europea.